Buongiorno a tutti da Luca Di Scacciati Investire.biz Oggi parliamo del titolo Facebook perché negli scorsi giorni ha raggiunto dei livelli davvero importanti Infatti è stata superata la soglia psicologica dei 200 dollari per azione E poi ieri, appunto nella giornata di ieri, a causa di un calo generalizzato delle borse in America Dovute alle tensioni sui dazi imposti da Trump, il titolo ha appunto ritracciato Finendo proprio su questo livello 193.50 Ovvero questa vecchia resistenza, questo massimo del primo di febbraio 2018 Appunto che in questo momento sta funzionando da supporto Andiamo a vedere una cosa molto interessante che è stata pubblicata sul sito di Bloomberg Infatti, come tutti sicuramente sapete, Facebook detiene la app Instagram Ovvero una app dedicata alla condivisione delle foto Che al momento è la app che nel mondo sta crescendo ad un ritmo maggiore di qualsiasi altra app Facebook compresa, quindi davvero una crescita incredibile Se volete trovate il link all'articolo di approfondimento nella descrizione di questo video Beh, nel 2012 Facebook comprò Instagram per la cifra record di un miliardo di dollari Sembravano tantissimi soldi al tempo Beh, secondo gli analisti di Bloomberg Oggi questa app vale da sola 100 miliardi di dollari Quindi davvero un investimento che si è veramente oltre che decuplicato Per questa app Che quindi è stata veramente un ottimo affare E tra l'altro continua il team di Facebook ad essere veramente sempre sul pezzo Infatti è da poche ore stato annunciato l'arrivo di IGTV Che praticamente è l'equivalente di YouTube ma appunto all'interno di Instagram Una mossa che suona proprio come un vero e proprio attacco a YouTube Che oggi come oggi è la piattaforma più importante per la condivisione dei video Che fa capo a Google L'azione di Facebook sta veramente andando bene in borsa E personalmente credo che avremo ancora tante soddisfazioni da questo titolo Lo scandalo di Cambridge Analytica ci ha dato l'opportunità di vedere appunto questo titolo Scendere di oltre il 20% in poco più di un mese E come abbiamo visto tante volte sul sito Noi ne abbiamo approfittato per incrementare le nostre posizioni a rialzo Mossa che ci ha ripagato veramente in breve tempo Perché come vedete dalla crisi, chiamiamola così, dello scandalo Il titolo è uscito veramente in fretta Il trend continua a essere ovviamente positivo E come vi dicevo credo che nel breve continueremo ad avere ottime soddisfazioni da questo titolo Buon trading a tutti, ci vediamo su investire.biz Grazie a tutti